Martedì pomeriggio l'arcivescovo si è recato a Milano presso la sede dell'Avvenire dove era stato invitato per celebrare una messa in preparazione al Natale. Accolto dal direttore Marco Tarquinio e dal direttore generale Paolo Nusiner, l'arcivescovo Monsignor Zuppi ha richiamato la necessità di chinarsi sul bambino di Betlemme per udire la sua voce flebile eppure rivoluzionaria. Il Natale, agli occhi distratti di chi crede di sapere tutto, appare come una notizia da niente, poco convincente, tutta da verificare. È necessario spingersi fino a Betlemme, nelle moderne periferie esistenziali, come ogni giorno, ha riconosciuto l'arcivescovo, a venire cerca di fare con il suo lavoro di informazione.